... Diciamo, abbiamo iniziato proprio nei primissimi anni 80 attorno a un piccolo locale di Firenze che si chiamava Roccoteca Brighton di Settignano, vicino Firenze dove il disc Joe che si chiamava Nicola Vannini noi eravamo tre ragazzi appassionati di New Wave chiedemmo a lui se voleva diventare il nostro cantante lui lo fece e poi quasi subito dopo incidemmo un disco un piccolo 45 giri 7 pollici con un'etichetta che si chiamava Italian Records a Bologna questo 45 giri ebbe una diffusione limitata però finì alle persone giuste che ci permisero poi magari ci dettero delle possibilità di suonare fuori Firenze di uscire, di farci conoscere un pochino fuori quindi i primi concerti, le prime soddisfazioni poi da cosa nasce cosa nel frattempo la scena fiorentina era cresciuta molto c'erano dei gruppi come Elite FIBA Ineon e Pankov e tanti altri e quindi si affermò una scena vennero fuori anche delle buone etichette una si chiamava IRA che voleva dire Immortal Record Alliance e questa etichetta praticamente ci pubblicò il nostro primo album che si chiamava Siberia questo è il 1984 e questo disco ci portò molta fortuna perché più che altro noi facevamo New Wave cantata in italiano era un genere che andava fermandosi in quegli anni in Italia e però cantata in italiano era una stranezza un senso di originalità dava che ci permese di suonare ancora di più in tutta Italia di farci conoscere anche la stampa specializzata ci dette un buon spazio e andammo a suonare anche all'estero in Olanda, in Spagna, in Francia, in Svizzera facciamo delle tourne europee insieme a Elite FIBA molte così e poi dopo negli anni verso passavano gli anni la New Wave non andava più tanto di moda c'è fu un periodo di calo e che coincise col fatto che io prima suonavo solo la chitarra poi decisi di diventare anche il cantante del gruppo feci un extended play si chiamava Gennaio e da lì poi dal 1990 in poi è ricominciata un po' la mia storia mi sono sempre diciamo mosso in un ambito underground però sempre ottenendo delle ottime soddisfazioni cercando di fare sempre la musica che mi andava di fare con pochi compromessi gestendomi proprio anche l'aspetto dei concerti e tutto e fino ai nostri giorni ho pubblicato tanti dischi in questi anni tantissimi dischi e l'ultimo si chiama Niente di Serio è uscito l'anno scorso però siamo già a lavoro su pezzi nuovi mi farebbe piacere entrare in studio in estate e pubblicare un album nuovo entro quest'anno quella di oggi a Napoli è un concerto il primo di una serie al sud e domani sono a Bari e dopo domani a Foggia poi martedì sono a Milano e qui insomma il lavoro c'è i concerti vanno abbastanza bene sono molto contento della data di questa sera a Napoli anche una bella affluenza di pubblico insomma sono molto contento sì visto che tu hai detto una cosa che mi interessava moltissimo c'è il fatto che voi cantavate e cantate in italiano e invece un po' la New Wave era un genere che forse veniva un po' da fuori anzi aveva trovato in Italia si è scontrata un po' con la tradizione italiana eccetera io vabbè forse qui a Napoli non ricordo di avere visto una scena molto forte forse a Firenze ecco tu hai citato dei gruppi in quegli anni nel 1935 c'era un gruppo che era di Salerno però che si chiamavano Splinfix che a me piacivano molto erano molto teneri venne la sonora a Firenze in un locale che si chiamava Banana Moon mi ricordo sempre perché il chitarrista aveva quella sera una congiuntività agli occhi tremenda allora mi ricordo che parlavamo un po' stiamo un po' insieme era un ragazzo molto dolce non so più non so come se lo pensiamo persi di vista noi abbiamo sonato a Napoli comunque ora non voglio parlare solo magari mi fa proprio piacere Splinfix di Salerno ma avevo già mi ero già mosso con altre persone forse lo trovavo e comunque ora non puoi parlare sempre di noi comunque a Napoli suonammo nel 1985 no nel 1983 una prima volta ai quartieri spagnoli al Teatro Nuovo si chiamava poi nell'85 in un locale si chiamava Diamond Dogs nel rione Sanità caspita sì queste me le ricordo bene queste sì queste ci ho mi rimasero molto in mente questi concerti qua e poi insomma anche altri ne abbiamo fatti insomma però questi due sono molto insomma me le ricordo bene sì ecco sì no giustamente chiaramente la New Wave nasce in Inghilterra chiaramente noi eravamo appassionati di gruppi come Joy Division e tanti altri Cure New Order e tanti altri sì nasce musica straniera cioè una musica quindi cantata in inglese e anche noi abbiamo dovuto scontrarci molto all'inizio perché il fatto che cantavano in italiano era visto da molti giornalisti da molti puristi da molti esterofili come una un tradimento insomma quasi un aborto cioè una cosa non aveva senso noi però insomma siamo andati dritti per la nostra strada e piano piano anche una via al rock non soltanto noi ma insomma Litfiba e tanti altri gruppi hanno dimostrato i CCCP insomma hanno dimostrato che si potevano fare buone cose cantando nella nostra lingua adesso è quasi opinione comune che si faccia rock cantato in italiano però ti assicuro appunto negli anni 80 era dura farsi accettare non era facile quindi era addirittura una cosa quasi negativa un'accezione così perché era una particolarità da molti sì perché appunto il rock è anglosassone il rock nasce in Inghilterra quindi è cantato in inglese soprattutto la new wave con questi accenti un po' scuri un po' tristi noi abbiamo cercato una via italiana cioè di mettere qualcosa di personale così a livello di testi di intimo io sempre scrivevo poesie all'epoca e quindi abbiamo cercato di mettere queste poesie in musica con una sensibilità un po' noi eravamo tristi persone un po' ombrose cupe malinconiche per cui sai Siberia evocavamo molte anche atmosfere un po' cupe un po' malinconiche però il dark soprattutto a Firenze negli anni 80 c'era pieno di dark di gente triste malinconica quindi insomma funzionava c'erano dei locali come il Tenax il Manila che avevano molto molto seguito erano sempre piene le serate poi voi avete trovato una dimensione personale che è andata oltre il genere proprio perché era una dimensione sentita intima che racconta tante cose è sempre così parti da un genere poi ti affermi per quello per una via personale che trovi insomma sicuramente infatti io so che tu hai anche scritto dei libri hai pubblicato delle cose sì sì ho fatto dei libri di poesie è un vizio da sempre dagli anni 80 poi ho scritto anche la mia autobiografia stiamo abbrindando quei demoni che è andata molto bene ha avuto molto successo sono contento sì aver scritto libri mi ha anche aiutato in dei periodi molto difficili di me mi sono aperto ne avevo bisogno sì sì allora un'ultima domanda poi ti lascio riposare dopo il concerto giustamente vabbè così una differenza di contesto visto che abbiamo parlato un po' del contesto degli anni 80 qual è quello attuale nel quale voi comunque vi muovete con una disinvoltura fate serate con un grande seguito anche seguito di persone giovanissime che non sono nostalgici perché abbiamo visto che sì che succede adesso no è vero certo no no il rock si è si è espanso molto in Italia adesso si va in classifica si fa dei bei dischi rock Verdena e tanti altri gruppi si affermano anche su larga scala e noi siamo un po' stati gli antesignani abbiamo iniziato abbiamo magari aperto anche la strada così a una via italiana al rock e per quanto riguarda noi sì è vero c'è un notevole ricambio generazionale nel senso ci sono molti giovani che ci seguono io non è che mi sono scelto un pubblico non ho mai scelto di rivolgermi a qualcuno in particolare credo che il fatto magari che scrivo canzoni d'amore o così chiunque si possa riconoscere magari se uno è innamorato di una donna in molte canzoni che ho scritto quindi magari ho parlato di temi universali quindi transgenerazionali cioè nel senso che posso andare bene a chiunque sono molto contento molto è una delle soddisfazioni più grande ma in generale anche l'aver potuto trasformare questa passione in un mestiere che mi dà da vivere di campare decentemente per me insomma è forse la cosa di cui sono più orgoglioso in tutta la mia vita insomma quindi sono contento le cose vanno bene dai speriamo che continuino ti ringrazio moltissimo per l'intervista grazie a tutti di Broggo Mentale a presto con nuove interviste nuovi artisti ciao grazie a tutti